Non è più il camper dell'anno scorso, questo ha dei servizi meravigliosi, non l'abbiamo badato a spezia, quindi mi posso anche riposare, dormire meraviglioso e quindi vi faccio vedere, ora basta adattarsi, ma è comodissimo, confortevole e anche raccolto, si mette qui, così, così e poi puoi fare anche questo, la tua privacy perché ci vuole la tua privacy, dopo 5 minuti però, ecco, anche meno, devi aprire perché ti manca un pochino l'aria, ma per il tutto il resto è confortevole, è confortevolissimo, ora mi riposo un po' in apnea. Grazie.